Da Valentina Diuf a Federica Stufi le grandi campionesse di pallavolo hanno scoperto la provincia di Sondro e saranno alcune delle protagoniste della Valtellina Summer League ma anche il basket maschile cale i suoi assi con le squadre di Serie A e A2 per coniugare al meglio lo sport di altissimo livello alla promozione turistica del nostro territorio e da Milano arriva la soddisfazione e l'incoraggiamento dell'assessore regionale Massimo Sertori che si è collegato da Regione Lombardia con la provincia di Sondro tanto il lavoro fatto in questi mesi per preparare quest'estate sportiva valtellinese I ricordi della Valtellina Basket Circuit di Bormio ancora vivo e tra l'altro i team manager di oggi sono i giocatori che giocavano negli anni 80 perché Max Ferraiolo, Frate sono tutte persone che hanno calcato i parquet negli anni 80 nel nostro territorio per quanto riguarda il volley io dieci anni fa ho fatto la prima partita a Bormio con la Yamamai ed è stato un continuo crescere ho creato il trofeo Chiavenna e adesso ho cercato di spostare un po' più verso il centro questa kermesse quindi col trofeo di Sondri Coinvolti nel programma Sondri e Aprica tutta la Val Malenco ma anche Bormio e Livigno capofila del progetto è il consorzio turistico a Media Valtellina Gli eventi sono sempre stati da traino al nostro turismo dai grandi ai piccoli perché apportano gente sul nostro territorio quindi che soggiornano e degustano la nostra inogastronomia ma la cosa più importante servono in particolare le immagini vostre servono poi a far conoscere le bellezze del nostro territorio in giro Il ricco programma sta avendo un prologo con l'organizzazione chiesa in Val Malenco di un camp di volley e qui anche il beach volley è contemplato nel programma sabato termina il primo turno dal 24 giugno al primo luglio è il secondo turno che vedrà cimentarsi come istruttori anche giocatrici di Serie 1 dal primo al 3 settembre a Bormio e Sondrio il Memorial Diego Pini con Varese, Basche, Brescia e Cantù e poi ancora il 15 e 16 settembre il Città di Sondrio con tanta Serie A vero volley Milano, volley Bergamo, Busto Arsizio Abbiamo la fortuna di ospitare una serie di eventi importanti i mondiali di rafting questo che è in programma, il Valtellina Summer League gare di skate running veramente è un concentrato di tanto sport, di tanta salute perché poi lo sport è salute e a me piace immaginare il nostro territorio come una grande proposta di cultura sportiva dove campioni che diventano attrattività diventano il momento per attirare gente e attenzione ma soprattutto un modello di vita anche per la nostra gente e soprattutto per i nostri ragazzi quindi lo sport come chiave di una parte del turismo ma anche come una chiave di un welfare territoriale della nostra valle E allora che la grande estate sportiva possa partire con la prospettiva che negli anni a venire ricettività e impianti possono crescere come questo sport di Serie A